Venerdì 17 gennaio, dalle ore 18 alle ore 22 e 30, nella sede del liceo classico in via Pio Decimo, gli studenti e i docenti della scuola hanno celebrato la notte nazionale dei licei classici, giunta la sua sesta edizione. Una manifestazione nata per promuovere e diffondere i valori della cultura classico-umanistica, per raccontare quanto lo studio dei testi latini e greci possa favorire lo sviluppo del pensiero critico e riflessivo, un viaggio nell'arte, nella letteratura, nella filosofia, nella poesia, per guardare il mondo con occhi nuovi, diversi e avere la piena visione della bellezza da cui ogni cosa discende. Oggi più che mai, in modo in cui la tecnologia avanza senza limiti raggiungendo dimensioni talvolta pericolose, è necessario preservare e custodire l'umanitas se vogliamo andare nella direzione di un autentico progresso umano, afferma il dirigente scolastico Anna Bassallo. Questo percorso sia un percorso di grande valore formativo, quindi tutto quello che stasera i nostri ragazzi metteranno in campo sarà la loro esperienza formativa all'interno del liceo classico e vedremo sicuramente delle cose straordinarie perché io già li conosco e posso anticipare che sono davvero meravigliose. All'ingresso della scuola l'accoglienza festosa delle maggiorette che hanno accompagnato gli ospiti all'interno dove gli ambienti sono stati sapientemente ed accuratamente arredati per vivere a pieno l'eleganza della classicità. Nell'aula magna è stato presentato il fitto programma della serata che ha avuto inizio con il processo al liceo classico e a seguire le declamazioni diversi in latino e in lingua italiana accompagnate dalle note di un pianoforte, brevi rappresentazioni teatrali sul mito della caverna di Platone, sui promessi sposi, sull'encomio di Elena, l'antico Egitto, le Idi di Marzo, Romeo e Giulietta, Paolo e Francesca. Per chiudere un omaggio all'infinito di Leopardi e alle poesie di Alfonso Gatto. Nei laboratori e nella biblioteca della scuola sono state presentate attività e progetti. Tanti gli ospiti presenti, giovani ex studenti del liceo classico a raccontare la loro esperienza scolastica e i loro attuali successi professionali. Il professor Antonio Capano che ha regalato un breve intenso saggio su classicità e modernità. Il magistrato Emma Conforti che ha sensibilizzato gli studenti ad una lettura attenta della Costituzione. Devo ringraziare tutti gli ospiti che sono intervenuti alla notte nazionale del liceo classico, ma soprattutto devo dire grazie agli studenti e ai docenti, a tutta la comunità scolastica che ha reso possibile con l'impegno, le competenze e la passione una serata così intensa di emozioni e di bellezza, conclude il dirigente scolastico Anna Vassallo.